amici e lettori di corse di moto bentornati su corse di moto tv per una nuova video intervista un saluto da parte mia da andrea periccioli l'ospite della puntata di oggi è lorenzo zanetti un pilota che non ha certo bisogno di presentazioni a corso un po ovunque più recentemente si è laureato campione cib superbike 2023 in questo 2024 intraprenderà l'ennesima sfida della sua carriera ma di questo ne avremo modo di parlare più avanti nel corso dell'intervista intanto ciao lorenzo grazie per la disponibilità ciao a tutti buona serata allora ti abbiamo sicuramente rubato ad un'intensa giornata di lavoro allenamento perché per chi non lo sapesse lorenzo lontano dalle gare ha il suo bel da fare nell'azienda siderurgica di famiglia poi si allena ovviamente perché gli allenamenti non possono mancare mai poi a fine giornata si dedica alla famiglia con i suoi splendidi bambini ho sbagliato ho detto giusto no no è detto giusto poi magari intramesso mi inventa ancora anche qualcosa che mi sfugge però sì diciamo che ho delle giornate abbastanza piene intasatissima poi per altri impegni però su quello evitiamo di approfondire troppo allora intanto partiamo dalla dalla più stretta attualità perché nelle non che avessi particolari dubbi al riguardo però insomma è un periodo abbastanza intenso per te nelle scorse settimane sei scelso in pista a Valencia pochi giorni fatti abbiamo visto girare a Vallelunga in entrambe le occasioni ha girato con una Panigale V4R comunque non in configurazione DM però sono tutti appuntamenti poi in preparazione ai suoi reali impegni sportivi di questa stagione sì diciamo che per farla breve non entrare troppo nei tecnicismi di solito in questo periodo di pausa campionato siccome come sai sono collaudatore tester per Ducati a volte in queste pause invernale mi danno delle moto da sviluppo cui io devo magari fare degli affinamenti accumulo chilometri e quindi sfrutto un po la pausa invernale andando magari anche con amici colleghi piuttosto che anche in giornate è aperta al pubblico a girare con la moto tra virgolette di allenamento ma in realtà io sto facendo un lavoro di sviluppo ecco su quelle moto ecco tutto questo per rammentare che dopo le varie voci di corridoio che si sono inseguite nei mesi antecedenti il tuo ruolo comunque con Ducati è rimasto inalterato tu sei tester e collaudatore di Ducati lato prodotto di serie quindi non ci sono stati scossoni interni di vario genere ma no vai dopo sai subito dopo la fine del CIV era un po scoppiata la bufera ma probabilmente alimentata anche dai social sai oggigiorno purtroppo si è esposti meteticamente molto io in parte non vivo molto in social quindi mi hanno toccato in parte è ovvio che ero al corrente di tutto quello che c'era però in realtà poi è cambiato veramente poco anzi è servito forse anche a rafforzare il mio legame con l'azienda ho un contratto in essere col reparto corse quindi sono ancora tutti gli effetti collaudatore per il reparto corse per il progetto Superbike così come collaboro anche con le attività noi le chiamiamo SAF che sono praticamente delle attività di sviluppo dei modelli stradali quindi in realtà dei nuovi modelli che usciranno in futuro quindi sono coinvolto in più fronti nell'azienda Ducati giusto giusto questo legame con Ducati poi come abbiamo come ho detto in sede di presentazione ti porterà a correre nel campionato tedesco nell'IDM Superbike sicuramente una domanda che ti hanno fatto e ti hanno posto molti dei miei colleghi in questo periodo ci puoi raccontare alcuni retroscena della trattativa con il team Triple M per cui correrai questa stagione visto che fino ad un certo periodo dell'anno fine 2023 un po' tutti davamo per scontato la tua permanenza nel CIV con probabilmente il numero uno sulla tua moto ma guarda in realtà adesso non ricordo se magari ci eravano già scambiati qualche battuta in merito finito il campionato come abbiamo detto tra le polemie così ma io in realtà finito il campionato avevo deciso di staccare un po' perché comunque era stato un campionato intenso a livello anche mentale quindi avevo voglia di staccare, godermi un po' famiglia, amici e quando ho ripreso in mano la situazione del 2024 ho parlato con Luca, con Forti, Broncos in realtà nella linea di massima era tutto a posto avremmo continuato con il numero uno sulla carena quindi a difendere il numero uno al CIV Superbike c'erano le premesse, c'era tutto eravamo molto praticamente quasi pronti per dare una dulce all'ECMA quando è nata proprio nei giorni dell'ECMA questa opportunità mi si è prospettata Ducati rientra nel campionato tedesco dopo penso più di dieci anni di assenza adesso più o meno, non ricordo l'ultimo anno che aveva in corso e nel ripartire tutto il progetto di EM in Germania mi hanno fatto questa proposta e mi allettava perché comunque io come hai detto prima ho parecchia esperienza, ho corso in tanti campionati mi hanno anche spesso offerto questi ruoli quando partono dei progetti nuovi campionati insomma dove hanno interesse quindi mi hanno anche posto delle belle condizioni e mi sono sentito di accettare questa nuova sfida insomma hai lasciato intuire che il progetto è molto ambizioso perché effettivamente Ducati non correva in veste ufficiale semi ufficiale da diversi anni e immagino che anche Audi cioè che anche Audi visto che ricordiamolo Ducati fa parte del gruppo Audi abbia interesse a portare il marchio Ducati a vincere nel proprio campionato fondamentalmente ma allora facciamo una premessa in realtà Ducati si impegna ufficialmente solo in MotoGP e in parte in Superbike a livello di team diciamo quindi diciamo tutti poi i campionati nazionali o meno sono supportati chiamiamoli così è chiaro che io essendo interno sono riuscito a mettere in piedi un po' una squadra molto forte per questo campionato ovvio che c'è un interesse da parte loro se no non avrei accettato però ecco insomma dopo di fatto è la filiale tedesca che è l'importatore più grosso in Germania il concessionario più grosso con già esperienza come team mondiale stock e mondiale superbike quindi c'erano tutte le premesse per far bene quindi ho accettato chiaramente ancora presto dovrai svolgere poi i primi test la stagione partirà tardivamente soltanto a maggio però secondo te che stagione potrebbe profilarsi? Ma io sai faccio sempre una premessa ormai i campionati nazionali visto che ci ho corso un po' anche in giro per il mondo sono diventati tutti di un livello altissimo perché ci sono gli specialisti ormai come nel CIV ci siamo io e Michele anche nel campionato tedesco ci sono i suoi specialisti come il BSB, come l'americano e quindi sicuramente arriverò in un campionato competitivo con appunto i suddetti specialisti che si corrono da anni che conoscono bene le piste le condizioni delle piste il regolamento attuale quindi sicuro dovrò un attimo capire e ad adattarmi però questo non mi spaventa perché sono un po' il lavoratore c'è il regolamento che è leggermente diverso da quello dell'italiano anche se io poi in realtà correrò con una configurazione identica ma come ho usato l'uno scorso dell'italiano anche per velocizzare un po' tutto il resto metà delle piste le conosco quindi mi tocca imparare l'altra metà avrai sicuramente tempo e modo di impararne insomma il calendario è molto interessante si correrà anche in piste storiche come ad esempio Nürburgring, Hockenheimring circuiti che hanno fatto la storia anche della Formula 1 visto che abbiamo parlato adesso dell'IDM facciamo un passo indietro un mesetto fa al Motorbike Expo abbiamo assistito a questo a un momento di riappacificazione fra te e Michele Pirro che per certi versi rappresenta la chiusura del cerchio che tutti noi auspicavamo dopo quello che era accaduto a Imola e poi nelle settimane a seguire Ma guarda ripeto secondo me si è andati tante volte in più occasioni su questo argomento credo che alla fine tutto sia nato sia stato amplificato da quello che dicevamo prima dai social da tutto quello che c'è gravità intorno in realtà io e lui a livello sportivo ci stimiamo siamo due colleghi siamo due che ce le siamo date sempre di santa ragione in pista in maniera penso corretta sempre siamo arrivati a giocarci il titolo all'ultima gara con per noi è molto importante il campionato italiano tutti e due ci abbiamo messo tantissimo impegno per arrivare a Imola lui ha sbagliato il sabato io ho sbagliato la domenica purtroppo nel mio errore ho coinvolto anche lui credo che alla fine doveva fermarsi lì e la stretta di mano non è stato altro che accettarlo e capire che tutti e due siamo magari andati oltre in realtà è stato un sancire quello che poi è sempre stato la nostra rivalità in pista credo che sai dopo ognuno reagisce alla sua maniera lo capisco che la settimana dopo fosse arrabbiato e quindi ognuno sai come dicevo reagisce alla sua maniera penso che dopo col tempo ha capito non c'era bisogno di approfondire analizzare sa che alla fine è stato un errore sa che non l'ho fatto apposta e quindi la stretta di mano credo che abbia sancito questo ecco dopo adesso le nostre strade sportivamente si dividono lui corrona nell'italiano nel campionato tedesco ma magari poi ci ritroveremo a darci battaglia in pista in un futuro una stretta di mano poi peraltro impreziosita dagli scroscianti applausi del pubblico presente insomma la premiazione al Motorbike Expo di Verona senza visto che siamo entrati nell'argomento senza però parlare dell'episodio in sé di cui veramente se ne è parlato di ogni dove voi piloti ti faccio un'altra domanda voi piloti siete per contratto passami il termine dei personaggi pubblici più o meno seguiti a seconda dei campionati dove correte un po' mi hai già risposto comunque però te la voglio fare lo stesso questa domanda ed essendo dei personaggi pubblici chiaramente siete soggetti alla disamina da parte dell'opinione pubblica di ciò che fate di quello che dite come reagite dei risultati che portate a casa e via discorrendo ecco in un caso emblematico come il tuo come si riesce a a far scivolare addosso tutte le critiche che si ricevano ora mi risponderai basta non guardare i social però forse così è anche troppo semplice no no credo che purtroppo adesso oggigiorno più andiamo avanti più stanno uscendo tanti di questi problemi perché purtroppo diventa passami il termine anche un po' una non una piega sociale però essendo tutti sotto questa grande lente di ingrandimento e tutti possono dirlo a loro c'è chi poi ha la forza di reagire e di farsi scivolare addosso c'è chi invece magari ci soffre e ci sta male fortunatamente dalla mia parte sono sotto le pressioni da quando ho 15 anni 16 perché comunque arriva il mondiale sei sotto queste sorte di pressioni che ti dà lo sport che alla fine mi ha fatto arrivare a questa età che sono in grado di sopportarlo insomma ovvio non mi ha fatto piacere mi ha fatto abbastanza male leggere determinati commenti e critiche come non mi è piaciuto il fatto che si sia spinto per buttare alimentare questa cosa ma capisco anche che poi dall'altra parte chi ne doveva parlare fa audience fa ascolti e quindi si cerca di cavalcare l'onda però poi mi ha anche servito per capire chi veramente mi era vicino chi veramente mi ha supportato con lealtà e basta cioè alla fine io sono uno che poi esatto ho molte robe al di fuori delle corse ho una vita al di fuori delle corse e questo forse mi ha anche aiutato cambiando argomento visto che ormai siamo anche in conclusione sfrutto la tua presenza di uomo Ducati anche collaudatore della V4R per farti una domanda abbastanza specifica ti aspettavi che che Bulega nel mondiale superbike si adattasse così in fretta alla V4R che soprattutto assorbisse bene il salto V2 V4 allora devo farti una premessa sì perché avevo visto i dati quindi guidava molto bene anche a livello di corporatura era quasi più in sofferenza sul V2 che sul V4 poi ha avuto un grande vantaggio che è un merito è stato bravo a sfruttarlo che non veniva fatto da anni cioè lui l'anno scorso è stato inserito nel programma di sviluppo superbike quindi in realtà lui lo scorso hanno fatto tanti test cosa che magari non era stata data la possibilità ad altri piloti in precedenza parlo della superbike ma questo non è un demerito anzi è stato molto bravo ha sfruttato l'occasione perfettamente vuol dire che Ducati ci credeva molto in lui che come è giusto che sia perché ricordiamoci che è stato un talento precoce cioè pre Moto3 Moto3 ha fatto cose agli esordi strabilianti capisco quello che ha passato gli anni poi di Moto3 Moto2 perché ci siamo passati più o meno tutti quando non riesce a capire perché le cose non funzionano sono stati bravi a recuperarlo prima che sia stato tardi e quindi sono me lo aspettavo sono contento perché sono merita e invece al volo per quanto riguarda Bautista quanto pensi che possa inficiare nelle sue prestazioni a lungo termine la Zavota ma non così tanto perché allora è vero che Filippa è una pista dove lui è sempre andato forte ma è anche una pista che fai fatica a capire i reali valori in campo quindi io i risultati di Filippa Island state bellissime gare tutto bello tutto figo tutti veloci aspetterei di entrare in Europa per capire i veri valori in campo credo che sia della partita credo che ovviamente farà un po' più fatica ma questo ne beneficia un po' lo spettacolo visto che si avvicineranno un po' gli altri sarà sicuramente una stagione del Mondiale Superbike da seguire con molta attenzione così come la tua poi nell'IDM Superbike poi chissà se qualche volta vorrai tornare anche a vederci al CIV a farci compagnia farcelo sapere non si sa mai anche nel tuo messaggio di tra virgolette addio non hai chiuso la porta a un tuo risultato no 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 anzi no io vengo a trovarmi sicuro mi piacerebbe però non guardare ma mettere anche in pista ovviamente si intende no da quello sì bisogna capire se ci sarà l'affettibilità la mia disponibilità c'è perché ci tengo ma anche un modo per ringraziare tutti comunque io sono amico alla fine di tutti dentro per me è una famiglia mi hanno aiutato tutti in questi anni per partecipare al campionato italiano e mi sembra mi sembra opportuno se ci fosse l'opportunità di correre col numero uno sulla carriera per onorare il campionato vinto ma anche se fosse solo per una gara magari comunque correre con l'uno ha sempre il suo fascino e ovviamente staremo a vedere nel frattempo noi possiamo concludere qui questa puntata io ringrazio di nuovo Lorenzo per la disponibilità grazie a voi e ovviamente io vi consiglio di restare collegati qui sul canale youtube ma anche sul sito per tutti i vari approfondimenti e notizie provenienti dai principali campionati nazionali e internazionali di motociclismo grazie per averci seguito e alla prossima ciao 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 ciao